Ciao a tutti signore e signore, oggi dopo due video dove abbiamo parlato un po' della situazione attuale della Chiesa, diciamo tre video, ecco, uno diviso in due parti che è la mia intervista ad Andrea Cionci sul codice Razzi, in vero che vi invito sempre ad andare a vedere, e poi il mio video sul cerchio magico intorno a Santa Marta. Dunque, dopo questi video sulla situazione attuale della Chiesa canonica e visibile, torniamo a parlare di dottrina, di teologia, che è l'essenza spirituale, no? Dunque, oggi parleremo della figura teologica di San Pietro, di San Pietro secondo un sacra teologie. Diciamo che dai testi del Nuovo Testamento possiamo estrarre una biografia della figura centrale del collegio apostolico, che è San Pietro, no? E dai Vangeli riusciamo a capire che Pietro era un pescatore, che seguì Gesù nella sua predicazione e che era l'apostolo prediletto di Cristo, colui al quale spetterà il comando della Santa Chiesa e il martirio per amore di Cristo. E il tema del martirio oggi sarebbe da ricordare a tanta gente importante nella Chiesa. Dunque, San Pietro è il personaggio dopo Gesù più citato nel Nuovo Testamento. Il nome Pietro viene dal greco Petros e viene citato circa 154 volte, mentre l'originale aramaico Kepha viene nominato soltanto nove volte. Dunque, Kepha dall'aramaico significa proprio pietra o roccia. Il fatto che Cristo abbia affibbiato a Simone questo nome racchiude il mistero teologico dell'importanza che Cristo gli ha dato a lui, Pietro, per fondare e sorreggere la sua Chiesa, no? Dunque, possiamo vedere anche come in Giovanni 1,42 si legge Gesù fissando lo sguardo su di lui disse Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, ti chiamerai Kepha che vuol dire Pietro. E dunque qui vediamo come il Signore gli affibbia questo nome. E appunto vediamo anche come il nome originale di Pietro è Simone, che viene dall'ebraico Simeone e compare circa 27 volte nel Vangelo. Esistono dei punti chiave, chiaramente, della vita di Pietro e del suo operato accanto al Cristo, fra cui sicuramente in primis la chiamata di Simone, dove vediamo come Pietro, innanzitutto vediamo che Pietro fa di lavoro il pescatore, no? Insieme a suo fratello Andrea. E vediamo anche come entrambi siano originari di Betsaida, che è un villaggio di pescatori che si trova sul lago di Genesa, retta in Galilea. Dunque, lui si è però poi Pietro, si è poi trasferito a Cafarnao, dove vivrà con i suoi familiari, fra cui la suocera, che poi vedremo miracolosamente guarita da Gesù. Pietro, insieme a suo fratello Andrea, sono fra i primi discepoli a rispondere alla chiamata di Gesù. Infatti, in ogni Vangelo, il primo testo in cui Pietro appare è intitolato proprio i primi discepoli, la chiamata, i primi discepoli. Insomma, sempre a sottolineare che è stato fra i primi Pietro ad aderire alla predicazione del Cristo. Dunque, vediamo che il loro primo incontro con il Signore avviene, tra Pietro e il fratello Andrea, con Cristo, avviene sulle rive del lago di Galilea, dove Gesù passava per predicare e allora, mentre Pietro chiaramente si dava da fare per il proprio lavoro di pescatore, Gesù gli parla e gli dice, sia a lui che al fratello, seguitemi, vi farò pescatori di uomini. Allora, Pietro e Andrea che cosa fanno? Gettano immediatamente le reti e seguono Cristo, accompagnati poi anche da Giacomo e Giovanni, pescatori anch'essi, che subito dopo Pietro e Andrea cominciano anche loro appunto a seguire Cristo. E' evidente che per Simon Pietro Dio abbia un piano, no? Un piano grande che fa fuori uscire anche quelle che sono le paure dell'Apostolo nell'accettazione di esso. Infatti i Vangeli presentano la figura di Pietro mettendo nel risalto molti lati emotivi, fra cui la generosità, l'entusiasmo, la franchezza, ma anche appunto, ripeto, le paure, le fragilità e le fatiche nell'accettazione di questo piano che il Signore ha per lui. Diciamo poi sicuramente come altro importante punto della vita di Pietro, c'è la sequela nel numero dei dodici, no? Vediamo come la sua figura sia sempre preeminente nella comunità degli Apostoli, vediamo come venga sempre nominato dal Vangelo stesso a capo di questo apostolato, no? Lo troviamo praticamente sempre vicino a Gesù nelle sue predicazioni e nei suoi miracoli. Vediamo come assiste Pietro alla trasfigurazione del Cristo sul monte Dabor, come assiste alla resurrezione della figlia di Gairo e come assiste anche al dramma agonizzante della realtà che si crea nel Gezzemani, no? La notte dell'arresto di Gesù. Dunque Pietro è il rappresentante e il portavoce dei dodici, dei dodici Apostoli. Vediamo il momento post-discorso di Giafarna, ottenuto da Cristo sul pane di vita, dove Pietro afferma una cosa fondamentale per la fede cristiana, fa un'affermazione fondamentale. Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Oppure l'episodio della confessione di Cesarea di Filippo, dove chiede voi, dove Gesù chiede, voi chi dite che io sia? Chi io sia? E Pietro risponde facendo una vera e propria confessione di fede. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E da qui, da questo momento preciso, inizia una nuova fase in cui Gesù rivela quello che è il suo stesso destino. Il figlio dell'uomo sarà umiliato, soffrirà, sarà condannato a morte, ma risusciterà dopo tre giorni. E attenzione, nella rivelazione di Gesù sul suo destino avviene uno scandalo nelle coscienze di alcuni, come nella coscienza di Pietro, perché Pietro, che allora non aveva ancora capito la grandezza del piano di Dio, diciamo rimase deluso, aveva l'aspettativa di un Messia per come l'ebraismo lo aveva sempre annunciato. D'altronde è anche giusto, Pietro era ebreo, faceva parte della corrente ebraica, è chiaro che è cresciuto con l'idea teologica ebraica riguardante la figura del Messia, però, e quindi che cosa faceva? Si aspettava un'immagine potente, gloriosa di questo Messia, e non un Messia che possa essere chiaramente sempre apparentemente sconfitto dagli uomini. Ma ripeto poi che non aveva ancora compreso la grandezza del divin piano. E così Gesù, lo apostrofa, chiamandolo Satana, che significa avversario, no? Avversario perché ha delle concezioni che contraddicono quella che è la logica divina. Nel Vangelo di Matteo, inoltre, per parlare di un altro importante episodio, vediamo come dopo la tempesta sul mare, no? Pietro chiede a Gesù di poter camminare sulle acque, però, essendo stato privo della giusta fede nel Cristo, vacillando interiormente, avendo paura, no? Rischiò di affondare, ma Gesù chiaramente lo afferra immediatamente e lo salva. Dunque, per questo video direi che questo video può finire qui. Per oggi abbiamo visto questi iniziali due punti fondamentali della vita dell'Apostolo Pietro per dare inizio a una successione di video, chiaramente, che inquadreranno la figura teologica dal punto di vista teologico, non solo storico e umano, quindi antropologico dell'Apostolo. Per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!